Maria Cristina Ciaffi, terza edizione di Dal mito alla storia, alle Terme Taurine, quindi location che conosciamo bene, una delle più belle di Civita Vecchia. Quanto fa piacere portare avanti una manifestazione simile? Sì, in effetti siamo molto contenti che siamo giunti alla terza edizione perché comunque è una manifestazione che si sta consolidando, sta crescendo e insomma questo ci dà soddisfazione, ci dà sempre più l'incentivo a migliorarci e quindi a proporre anche nei prossimi anni lo stesso tipo di iniziativa. È un'iniziativa che anche quest'anno è sostenuta da Enel come main sponsor e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civita Vecchia con il patrocinio del Comune di Civita Vecchia. Abbiamo dovuto aspettare tre manifestazioni estremamente interessanti, coinvolgenti, in un luogo straordinario che è emotivamente fantastico, le nostre Terme, lo è anche dal punto di vista culturale e sarà veramente ravvivato dalle idee che Francesco Angeloni e Roberto Fiorentini e in parte anche io e Antonio Caruana abbiamo avuto con tre rappresentazioni, i Promessi Sposi per Francesco Angeloni, Pompei, un viaggio diciamo lisergico, storico tra musica ed immagini di Roberto Fiorentini e il Decameron 3.0 che io e con i miei complici storici, Marco Manovelli Tenore e tutti i miei musicisti e anche Antonio Caruana, i testi con me, abbiamo rappresentato. Venite, venite, venite perché la Prologo ha fatto un grande sforzo, anche i nostri sponsor e ci aspettiamo tanta tanta gente a vedere questo spettacolo. Questa è la terza edizione e quest'anno mi sembra che ancora più degli anni precedenti ci sia stato un grande coinvolgimento dei giovani ma anche di attori appartenenti ad altre realtà telelaterali della nostra città. Il cartellone è sicuramente interessante, simpatico, divertente e quindi fa piacere essere con loro. E quest'anno c'è anche il contributo di Enel, insomma un'iniziativa culturale che quindi fa piacere contribuire per queste iniziative. Siamo particolarmente contenti di contribuire anche quest'anno a questa iniziativa culturale per la città. Enel è sempre più vicina al territorio e lo vuole fare in termini di sostenibilità che consiste, si traduce in sostenibilità ambientale, sociale, culturale e sportiva e questo rappresenta e sposa al meglio tutti questi valori sui quali Enel crede davvero.